Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri E questa edizione del telegiornale Monta la protesta dei residenti di Gimarra contro il comune di Fano Che intende realizzare la strada di collegamento con Pesaro Attraversando aree verdi vicino alle ville Carloni lancia la campagna elettorale al motto di Rialziamoci Il candidato della Lega illustra le proposte per rilanciare la sanità, l'economia E frenare l'emigrazione giovanile In corsa anche Federico Talè, che a Sassonia di Fano Ha aperto l'incontro con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi Nonostante qualche timore per i contagi Pesaro non rinuncia alla tradizionale serata in spiaggia di San Lorenzo Migliaia di candele illumineranno le spiagge da Gabice a Pesaro A Urbino confermata la festa del Duca Quattro giorni di eventi tra spettacoli e rievocazioni storiche Dedicate ai 500 anni dalla morte di Raffaello A Cartoceto l'evento Stelle d'Argento animerà l'antico borgo della Valle del Metauro La notte più luminosa dell'estate in programma mercoledì Si festeggerà con una cena a base di eccellenze del territorio Dopo il Tg, la seconda puntata di Missione Salute L'ospite di questa sera sarà il dottor Pierpaolo Isidori Che parlerà delle patologie legate al coronavirus Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova e rinnovata edizione Almeno dal punto di vista grafico di Occhio alla Notizia Il telegiornale sul canale 17 Telegiornale che si apre con il progetto dell'Interquartieri E la protesta che c'è stata nel pomeriggio Da parte di alcuni residenti del quartiere di Gimarra Contrari alla realizzazione di una strada alternativa alla statale adriatica Vediamo Gimarra che diventerà così un'isola circondata da un torrente E due strade di scorrimento I residenti del quartiere di Gimarra sono contrari E protestano pacificamente Esprimendo il proprio dissenso di estendere l'Interquartieri Devastando come dicono la zona trave Paleotta Con ricaduti inevitabili sulla collina del Carmine La più tutelata dalla città per il forte vincolo paesaggistico Secondo loro il progetto di creare una strada alternativa alla statale Con il risultato di portare nuovamente il traffico Sulla adriatica prima dell'ex hotel Riviera E' inutile per un effettivo snellimento del traffico Dannose e devastante per l'ambiente circostante Di cui finora si ritengono i custodi In più lamentano che la decisione della giunta serie E' rispettosa nei confronti di coloro che abitano Senza nessuna previa comunicazione o consultazione Quello che chiediamo è di prendere in esame Il vantaggio e lo svantaggio di creare un raccordo Tra Via Trave e la località Gimarra Noi pensiamo che rovinare una collina Che è una collina che è un polmone verde per la città di Fano Che è a ridosso della zona sportiva Trave Non risolve assolutamente il problema del traffico Fano-Pesaro Per cui rivediamo un attimo le scelte Per carità possono essere anche non condivise Però andiamole a valutare Vediamo il pro e il contro Al momento secondo noi non ne vale la pena I cittadini hanno istituito una petizione Che ha raggiunto 415 firme circa E si auspicano un ripensamento da parte dei consiglieri comunali Che non venga attuato il progetto Si mostrano determinati anche a creare un comitato E intraprendere se necessario delle vie legali Come residenti del quartiere intendono mobilitarsi Esponendo anche un drappo rosso Appeso alle finestre o cancelli delle proprie abitazioni Per difendere il quartiere Sofferente per un'urbanizzazione esagerata E priva di molti servizi È un problema irrisolto da tempo Che forse è il momento di cominciare a pensarci Assieme al sindaco di Pesaro O alla città di Pesaro Ma non sopra la testa dei cittadini Non a Ferragosto Non con un consiglio comunale online Non con una delibera di giunta già decisa Quindi questo non è un metodo democratico Ed è quanto non era scritto Anzi è il contrario di quanto era scritto nel programma elettorale Di chi ha il potere oggi Si tratta di valutare meglio e in maniera approfondita Le altre alternative che ci sono Meno impattanti e meno costose E a distanza di pochi giorni Dai due incidenti mortali sul lavoro Oggi si è consumata un'altra tragedia A San Marcello di Camerino In provincia di Macerata Un uomo di 73 anni è stato schiacciato Dal braccio meccanico Del trattore che stava manovrando Ed è morto Era stata la figlia a denunciare ai carabinieri La scomparsa del padre Non vedendolo rientrare a casa ieri sera Dopo ore di ricerche anche da parte dei vigili del fuoco Il 73enne è stato trovato a terra Senza vita nelle vicinanze del casolare Sotto il braccio meccanico del mezzo I pompieri hanno liberato il corpo della vittima Bloccata dal pesante arto meccanico Ma ormai non c'era più niente da fare I sanitari del 118 ne hanno constatato la morte La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento Da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria Dopo i 16 casi di positività Il coronavirus registrati nella giornata di ieri Nelle ultime 24 ore Sono stati rilevati soltanto due tamponi positivi Si tratta di una persona rientrata dall'estero In provincia di Ancona E un'altra di un'altra che ha accusato sintomi In provincia di Macerata Calano anche i ricoveri da 13 a 11 Nessuno dei ricoverati è in terapia intensiva Le persone che attualmente sono in ospedale Si trovano nel reparto di malattie infettive a Fermo 3 ad Ancona e 6 a Marche Nord, Pesaro Intanto i guariti salgono a 5.804 Mentre i positivi in isolamento domiciliare Sono diminuiti Così come le persone isolate in casa Per contatti con contagiati Meno 46 rispetto a ieri Ad oggi il totale è di 1.324 Tra cui 47 operatori sanitari E oggi, anche oggi, non si registrano decessi E adesso apriamo la pagina politica Ieri è stata inaugurata a Fano La sede dell'elettorale di Mirko Carloni Il consigliere della Lega Ha elencato le priorità per il futuro della Regione Tra queste una riforma sanitaria Risollevare l'economia E frenare l'emigrazione giovanile Al motto di rialziamoci Il consigliere regionale Mirko Carloni Ha lanciato la sua campagna elettorale Per il candidato della Lega Serve coraggio per riprendere in mano Il futuro delle marche Con un nuovo modello di crescita La Regione ha precisato Deve tornare ad essere competitiva A scommettere nei giovani E a garantire i servizi sanitari In occasione dell'incontro con la stampa Carloni ha inaugurato la sede elettorale In zona Porto a Sassonia di Fano Dopo il taglio del nastro Al piano superiore dell'edificio Il consigliere uscente ha elencato Le difficoltà che hanno messo a dura prova I marchigiani Dopo il Covid Il crack di Banca Marche E il terremoto Per Carloni siamo a un passo dal collasso È necessario dunque rialzarsi adesso Altrimenti sarà troppo tardi Ha detto Non c'è consapevolezza della gravità Del momento che stiamo vivendo Il Partito Democratico ha commesso gravi errori E la comunità ne sta pagando le conseguenze Le imprese chiudono Le opportunità di lavoro diminuiscono E la burocrazia sta frenando ogni iniziativa In questo momento serve uno slancio Serve coraggio Serve voglia di rimettersi in gioco Ecco rialziamoci È qualcosa da fare insieme ovviamente Che nessuno può fare da solo Collettivamente Ma è anche un fatto individuale E quindi prendersi in mano il proprio destino Non avere paura anche dei cambiamenti Provare a cambiare Dopo 30 anni che governa la sinistra Questa regione Penso che sia un momento importante E anche di coraggio Che va fatto Va fatto per tanti motivi Soprattutto pensando al futuro Ai più giovani E a chi viene dopo di noi Le Marche Prosegue Carloni Non sono una terra da cui scappare I giovani non vedono prospettive Nella nostra regione E questa è la più grande sconfitta Di chi sta governando Tra i temi prioritari Poi c'è anche quello dell'economia E soprattutto la microimpresa Da noi soffre di più Per la carenza del credito Per la mancanza di accesso Ai finanziamenti E per un sistema burocratico Che impedisce e mortifica Qualunque volontà E qualunque iniziativa Sulla sanità invece Per il consigliere della Lega È necessaria una riforma Sostanziale Che la faccia tornare Ad essere efficiente Togliendo burocrati Assumendo medici e infermieri Frenando la mobilità passiva Se il centrodestra Vincerà le elezioni Verrà rivalutata La convenzione firmata Due anni fa Con il comune di Fano In ogni caso Verrebbero mantenuti Sul territorio I presidi sanitari Sta succedendo Che anziché pensare I pazienti Stanno pensando A rinominare i dirigenti Per altri tre anni Come se non ci fosse un domani Quindi Io Noi abbiamo in mente Una sanità Che mette al centro I pazienti Non i funzionari Della sanità Quindi Completamente ribaltare Il paradigma E pensare Che la sanità Deve dare prestazioni sanitarie Non deve essere Un'occasione Per sistemare Chi ha la tessera In tasca Del partito giusto Toccato anche il tema Del turismo Che per Mirko Carluni Necessita di una grande Operazione di marketing La legge urbanistica E ferma dal 92 Ha ricordato Precisando che servono Investimenti Per aumentare le cubature E riqualificare gli alberghi Ad oggi inadeguati Mancano poche settimane La Lega porterà Devuti incisivi Secondo lei Tutti quanti Abbiamo una grande responsabilità Ognuno di noi Deve metterci la fazza E cercare di convincere L'elettorato Di spiegare Che questo è un momento Importante Storico Che dobbiamo veramente cambiare Dobbiamo avere il coraggio Anche di trovare Negli altri Con quello che ci consente La democrazia Una voglia profonda Di cambiamento Che è qualcosa Che deve nascere Nei politici Ma deve nascere Anche negli elettori E credo che mai come ora Questo sia il momento giusto Quindi rialziamoci Lo facciamo tutti insieme Rialziamoci E sempre a Sassonia di Fano Nei giorni scorsi È arrivato invece Il leader di Italia Viva Matteo Renzi Che ha presentato Il suo ultimo libro L'incontro con la cittadinanza È stato anche l'occasione Per parlare Delle elezioni regionali Di settembre Che vedono in corsa Il consigliere Di Italia Viva Federico Talè Il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi È arrivato a Fano Venerdì scorso Per presentare Il suo ultimo libro La mossa del cavallo Nel rispetto Delle norme anti-covid Il senatore È rimasto per circa due ore All'attenso struttura Di Sassonia Di fronte A un centinaio di persone Una serata tranquilla Parte un piccolo Fuori programma Quando un contestatore Ha gridato Buffone Parola pronunciata Da un giovane di passaggio Subito identificato Dalle forze dell'ordine E allontanato L'incontro è stato aperto Dal consigliere Di Italia Viva Federico Talè Che ha organizzato l'evento E dal candidato governatore Del centro-sinistra Maurizio Mangialardi Nel corso della serata Renzi ha affrontato Temi di politica Sia nazionale Che locale In vista delle elezioni Regionali Del prossimo settembre Volete una regione Che investe sulla sanità I soldi del MES Come Maurizio Mangialardi Mangialardi farà Se sarà eletto presidente O volete una regione Che invece Lavora nel fronte Sovranista Anti-europeo Come vuol fare Il candidato Acquaroli Di Fratelli d'Italia La scelta È per voi Per il vostro futuro Non c'è una partita Nazionale C'è una partita Delle Marche Il buon governo Contro l'ideologia Italia Viva Per Renzi Sarà decisiva Per la vittoria Del centro-sinistra Oggi ha detto Il leader del partito La vera sfida È quella di riportare Passione per la politica Contro il populismo È in questo La sfida Delle Marche È precisa La sfida Più importante Perché Perché tu c'hai Da un lato Chi governa Con la forza Delle idee Chi ha fatto il sindaco Chi conosce L'amministrazione E dall'altro C'hai una coalizione Guidata da Fratelli d'Italia Che a Roma Con la Meloni Urla tutti i giorni Per Contro l'Europa Contro il MES Contro I denari Di chi invece Dall'Europa Ci ha salvato In questa situazione Quindi la sfida È nelle Marche La prossima mossa del cavallo È nelle Marche Noi siamo quelli Che faranno fare la differenza Perché Mangialardi Si è avanti di uno Il risultato è che Noi saremo decisivi A lanciare un appello Ai cittadini È stato anche Il candidato consigliere Federico Talè Votate la persona Che conoscete Ha consigliato Guardate la competenza Dei singoli candidati E guardare anche La competenza Di chi andiamo a votare Non votiamo Per partito preso Non stiamo a guardare Soltanto I sondaggi O il partito a Roma Guardiamo anche Quello che Un candidato Ad esempio Un candidato come me Uscente Ha fatto in questi cinque anni I miei temi L'ho sempre detto Quali sono Sono quelli del sociale Sono quelli dell'impresa Sono quelli E quindi dell'agricoltura E del turismo Dovremo fare Grandi riforme Per quanto riguarda La sanità Una delle riforme Più grandi Sarà quella Di modificare Il decreto settante Il Balduzzi Abbiamo Come dire Depauperato il territorio Della sanità territoriale Dobbiamo rinserirla E adesso invece Apriamo la pagina Degli eventi Andiamo a Pesaro Dove nonostante Le incognite Legate al coronavirus Questa sera Prende il via L'edizione 2020 Di candele Sotto le stelle Migliaia di candele Che vengono accese Sulle spiagge Da Gabice A Pesaro Pesaro è quasi pronta I preparativi Sono ultimati Per l'edizione 2020 Di candele Sotto le stelle La manifestazione Illuminerà Il lungomare Di Pesaro Gabice La riviera Del San Bartolo Nella notte Di San Lorenzo Un format Un format diverso Rispetto a quello Degli anni precedenti Organizzato E pensato Nel rispetto Delle norme Di sicurezza Anti-covid Noi abbiamo Sondato un po' Quelli che saranno I partecipanti E abbiamo sentito Anche i pareri Degli operatori Balneari Che stanno Attrezzando Le proprie spiagge Fervono i preparativi Come vi state organizzando Nel vostro stabilimento Balneare Adesso allestiremo Quelle candele Che ci ha fornito Candelara E poi stiamo Con il bar aperto I clienti Vengono qui Mangiano Con la famosa Gluppa di Pesaro E niente Facciamo festa Avete già organizzato Una cena Ci sto appunto Pensando Magari ho una pizza Sulla spiaggia O mangiare da qualche parte Meglio forse Amici? No noi due La prima volta Che partecipate Sì 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 È il primo anno Che veniamo qua Quindi sì Da Bologna Sì penso di sì Io niente Perché sono ospite Qui della cittadina Penso che sarà Una cena Sotto i nostri ombrelloni Quindi la prima volta Che parteci Sì Da dove viene? Da Roma Rimarremo qui Ma niente di che Avete organizzato Bluppa Cena con amici No 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 niente di che Rimaniamo solo un po' qua In compagnia e basta Di famiglie Di figli E basta Stiamo facendo dei preparativi Per la festa delle candele Volevo chiedere Quante candele state installando? 1.200 candele Su tutta la riviera Da Fano Fino a Gabice Mare Verso le 8 7.30 Cominceremo Una volta piantati i pali Al ritorno Cominciamo a scendere Mentre fervono i preparativi Per le candele Sotto le stelle Lei con lo stabilimento Barneare Non ha aderito All'iniziativa Perché? Non ho aderito Perché il mio sindaco Ha sbagliato Un'altra volta Saltando il paio Dei braceri Festa del porto E altre feste È andata a fare questa qui Che è sempre Un assemblaggio Di gente A fare la fiera Uguale Sono tutte assemblaggi Che lui doveva saltare Tutto queste Essendo che adesso C'è anche Un po' di allargamento Di covid Cose varie Doveva saltare tutto E fare la stagione Tranquilla Invece Va a rischio Di nuovi focolai Perché la gente Si sta vicino Tutte cose Tutte cose Che possono Provocare focolai Secondo me Dopo un incontro Con la prefettura Il CSI Ha deciso Di rinviare Al prossimo anno La Corrifano La gara podistica Non competitiva Che avrebbe raggiunto La venticinquesima edizione Ci abbiamo provato Fino all'ultimo Racconta Francesco Paoloni Vice presidente Del CSI di Fano Ma mantenere Le distanze di sicurezza Ed evitare assembramenti In un evento del genere È impossibile Abbiamo avuto Anche dei confronti Con la prefettura Ferma Paoloni Ma non essendoci Dei protocolli Definiti Per queste competizioni Abbiamo deciso Di fermarci Di rinviare Le nozze d'argento Al prossimo 18 settembre 2021 A Urbino Invece È confermata La festa del Duque Quattro giorni Di eventi Tra spettacoli E rievocazioni Storiche Dedicate 500 anni Dalla morte Di Raffaello Mercatini Laboratori Allestimenti Rinascimentali Spettacoli E rievocazioni Storiche Torna Dall'11 Al 14 Agosto La festa Del Duca Di Urbino La principale Manifestazione Che segna L'estate Della capitale Del Monte Feltro Nel rispetto Delle norme Anti-Covid La 39esima edizione Ha in programma Diverse novità Quest'anno appunto Siamo all'anniversario Appunto il 500esimo Anniversario Della morte di Raffaello Per cui abbiamo dedicato La festa del Duca Raffaello Teatrum Soprattutto ecco Segmento del teatro Per cui inaugureremo Con questo evento In prima mondiale Scritto dal maestro Mangani Raffa Il Sinfonia numero 1 Ed eseguita Dall'orchestra Filarmonica Marchigiana È veramente un evento Importantissimo Non solo per la nostra città Ma per tutta la regione Marche Gli altri appuntamenti Diciamo così Principali Sì Seguirà Questa è la giornata inaugurale Poi seguirà Il 12 L'apertura Max Paiella Con lo street quartet Gagliano Il più Grande quartetto Che esegue Musiche di Mozart In Europa E quindi Sarà un esperimento Bello Accostare Mozart A Raffaello Ci saranno Poesie Letture Di poesie scritte Da Raffaello Sanzio E poi spettacoli Che si susseguono Dalle ore 16 Per bambini Letture Appunto Su Raffaello Sanzio I grandi pittori Fino alla chiusura Che vede Insomma Alla mezzanotte Le proiezioni Di quattro film Sui più grandi Maestri Dell'arte Il 14 Si conclude Di solito La festa del Duca Con il grande gioco Dell'Aita Quest'anno Non possiamo giocarla Perché è un grande gioco Di contatto Per cui Non possiamo farla Ma presenteremo In prima nazionale Abbiamo scoperto Da un disegno Di Muziodi Del 1608 Che il gioco Dell'Aita Era molto già conosciuto E lui aveva disegnato La tribuna Per assistere Il gioco Dell'Aita E noi presenteremo Il modellino Con tutta L'apparato Che c'era appunto Per il gioco Dell'Aita Lo spettacolo Conclusivo È per il 14 E poi ci saranno I fuochi Rinascimentali In piazza Duca Federico Quindi da non perdere Dall'11 al 14 agosto In Urbino E adesso invece Ci spostiamo A Cartoceto Dove l'evento Stelle d'argento Animerà L'antico borgo Della Valle del Metauro La notte più luminosa Dell'estate In programma Mercoledì Si festeggerà Con una cena A base di Eccellenze Del territorio I migliori prodotti Enogastronomici E agroalimentari Del territorio Nove attività Ristorative Musica E le stelle Che risplendono Nella notte più luminosa Dell'anno Sono questi I protagonisti Di Stelle d'argento L'evento Che mercoledì Il 12 agosto Animerà Lo storico borgo Della Valle del Metauro In provincia Di Pesaro E Orbino In ogni attività Aderente all'iniziativa Sarà possibile Degustare Apericena E piatti Pensati ad hoc Inoltre Nei vari locali Ci sarà una proposta musicale Per allietare la serata È un'iniziativa Che nasce dalla collaborazione Tra il comune di Cartoceto Il museo del Bali Di cui il comune È socio fondatore E la proloco di Cartoceto Mettiamo a fattore comune Sostanzialmente Quelle che sono Le eccellenze Dell'agroalimentare Del nostro territorio Il gusto D'eccellenza Che può esprimere Il territorio comunale Di Cartoceto Della musica Alietante In quelli che sono I locali Aderenti E tutto poi Quello che invece Concerne Le attività Del museo del Bali Che propone Il museo Per la serata Del 12 di agosto Completamente dedicato Ovviamente Allo sciame Delle per sedi Alle stelle cadenti E a tante altre attività Che si svolgeranno Presso il museo del Bali E per consentire Il rispetto Delle norme Anticontagio È obbligatoria La prenotazione A garanzia Di quello che è Il rispetto Dei protocolli Delle prescrizioni Covid È obbligatoria Sia per la cena Presso i locali Aderenti Sia per poter Fruire delle attività Presso il museo del Bali Compreso il parco Esterno Compreso il planetario Il nuovo planetario Digitale Che propone Il museo del Bali E ogni informazione Potete trovarla Sul sito internet Della Proloco Di Cartoceto E sul sito internet Del museo del Bali Così come sulla pagina Facebook Di Cartoceto Turismo Orario di inizio? Dalle 19 in poi Presso i locali di Cartoceto Museo del Bali Invece aperto Dalle 17 alle 24 Con alcune attività Invece Cadenzate Alle 20 a 30 21 a 30 22 a 30 Presso il palco del Bali E tra poco Trasmetteremo Dopo il telegiornale La seconda puntata Di Missione Salute L'ospite di questa sera Sarà il dottor Pierpaolo Isidori Che ci parlerà Delle patologie Legate al coronavirus E vi facciamo ascoltare Adesso un breve strato Di questa intervista SARS, MERS e COVID-19 Sono tutte patologie A trasmissione zoonotica Cosa significa? Significa che c'è un serbatoio naturale Della malattia Che è rappresentato Dai pipistrelli E che poi avviene Il salto di specie All'uomo Attraverso un ulteriore animale Nel caso della SARS Erano gli zibetti Sono piccoli animali venduti I selvatici venduti Nei mercati asiatici Nel caso della MERS Era il cammello O il dromedario Nel caso del COVID-19 Non è stato ancora identificato Ma si ritiene Almeno alcuni autori cinesi Ne parlano Possa essere il pangolino Il pangolino è un piccolo formichiere Che viene Le cui carni vengono considerate Una eccellenza Una prelibatezza In Asia e in Africa Bene Allora Appuntamento subito dopo Il telegiornale Commissione Salute Qui seguirà Uno speciale Uno speciale video Sull'assemblea ordinaria E straordinaria Dei soci Della cooperativa Agricola di Falcinetto Con la visita Fano del Ministro Alle politiche agricole Teresa Bellanova Ed è tutto Per questa edizione Del telegiornale L'appuntamento Con l'informazione Qui sul canale 17 Di Fano TV E per domani mattina Alle ore 7 In diretta Con la rassegna stampa Arrivederci Sñido pacte Sñido Sñido K